Ben trovati a tutti, nuova settimana in compagnia di Tra le Righe, appuntamento in libreria, la libreria è quella voce di Padre Pio a pochi metri dal santuario di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo. Anche questa settimana vi presenteremo alcuni libri, per rivedere le puntate vi consiglio di andare sul nostro canale YouTube Padre Pio TV. Bene, partiamo subito con un libro dedicato al Santo di Pietrelcina, Edizioni Padre Pio, Rai Ascoltasi fa sera, 11 anni con Padre Pio. È un libro che sicuramente anche negli anni abbiamo già presentato, che però è il caso di dire un grande classico. Il libro firmato da Padre Luciano Lotti è un libro che prende spunto da una trasmissione radiofonica che Padre Luciano Lotti ha condotto insieme, era ospite di Filippo Anastasi, su Radio 1 diversi anni fa. Infatti leggiamo proprio nella presentazione le parole di Filippo Anastasi, direttore Rai, oggi 2000, diversi anni fa. Introdurre il libro di Padre Luciano Lotti non è un esercizio facile, ancora meno facile se il libro è una raccolta di interventi su Ascoltasi fa sera, una trasmissione di Radio Rai, che in questo caso parla al presente ma che ha curato per diversi anni e che è sempre stata nel cuore di Filippo Anastasi, come quello di milioni di ascoltatori. È facile però facilissimo parlare bene di Padre Luciano Lotti, che ho voluto fortemente tra i predicatori della mia rubrica radiofonica, perché da me è considerato il più completo conoscitore di Padre Pio e delle sue opere. Quello appunto che hanno fatto in questo libro Luciano Lotti, fra Luciano Lotti e Filippo Anastasi, è raccogliere, mettere insieme nero su bianco, gli episodi, i racconti di Padre Luciano, appunto per radio. Quindi sapete che la radio ha un ritmo abbastanza veloce e tante sono le storie riportate in questo libro. Pagine di storia, episodi anche presi dall'archivio personale di Luciano Lotti. Ve ne voglio leggere una in particolare. Diciamo che si può prendere, se ne può prendere una a caso, il libro non segue proprio un filo, come dire, cronologico. Quindi potete aprire a caso il libro e leggerne una presa al volo. 20 settembre del 1918, Padre Pio alle stimmate. Dal 1919 i giornali ne danno la notizia e questo causa trambusto e sospetti. Quel povero frate ad un certo punto si incrocia con i clan dei bolognesi, gente bigotta e limiti del fanatismo, così li ha descritti qualcuno. Tra loro c'è un fotografo convertito, un certo Abresh, poi un giornalista, Alberto Delfante. A loro si unisce Manuele Brunatto e tanta altra gente. Nel suo diario, Padre Agostino e il padre spirituale di Padre Pio parla di una certa Carolina Giovannini, che sembra la più esagitata del gruppo. L'ambiente di sospetto che si era creato intorno a Padre Pio non sempre ha reso giustizia a tante persone che, come lei, come i bolognesi e come tanta gente del nord, veniva a San Giovanni Rotondo. Con una fede molto diversa da quel fanatismo di cui venivano accusati. Le loro vite, le scelte che hanno fatto durante l'esistenza e dopo la morte di Padre Pio, sono il segno di un popolo che, nonostante mille accuse ingiuste, ha continuato in silenzio la sua missione. Queste persone, così tremende, nel 1939, sulla strada che porta al convento, pongono le 14 stazioni della Via Crucis. Un itinerario che, proprio secondo le parole della Giovannini, che ne è la promotrice, deve portare a capire Padre Pio, ma che deve anche partire da Padre Pio e andare per il mondo. Quindi, quando vi capiterà di venire a San Giovanni Rotondo e di percorrere il Viale Cappuccini, che è quella lunga strada che porta dal paese al convento, salendo sulla destra, appunto, incontrerete le 14 stazioni della Via Crucis e che sono state proprio donate dai bolognesi a Padre Pio. Queste e tante altre informazioni, storie, le troverete in questo libro, potremmo davvero dire, di mini catechesi radiofoniche, firmate da Fra Luciano Lotti. Il libro si intitola Rai Ascoltasi fa sera, 11 anni con Padre Pio e edizioni Padre Pio da Pietrelcina, a firma di Fra Luciano Lotti. Lui si chiama Paolo Vizzacchero, è ausiliare esorcista e scrive un libro che racconta il suo incontro, ma anche qualcosa di molto importante legato alla vita di un grande esorcista. Parliamo di Padre Gabriele Amort, sottotitolo L'ultimo partigiano di Dio e di B edizioni. Incontrare Padre Gabriele, scrive l'autore, è un po' come confrontarsi con l'indefinito. Non sai se ti trovi vicino al prescelto, tanto è lo spessore spirituale trasmesso, oppure al cospetto di un grande umorista. Lo trovi serio, rigido, quasi paura di parlargli, anche se a dire il vero sai sempre che hai a che fare con un tenero, un buono, il più delle volte aperto, disponibile, pronto comunque a spiazzarti con una battuta spiritosa. In entrambi i casi, incrociando Padre Gabriele, si ha l'impressione di imbattersi in una persona comune, anche se poi a scendere nel profondo del suo ruolo, in tema di trattamenti terapeutici spirituali, non è secondo a nessuno. Sono passati tanti anni da quando, angosciato per un problema familiare e prospettatogli, lo sbriciolò attraverso uno dei suoi trattamenti di grazia, ovvero gli esorcismi. Quindi un libro in cui tratteggia la figura di Padre Gabriele Amort, appunto l'autore Paolo Vizzacchero, che però parte da un episodio della sua vita personale, quindi qualcosa di forte che decide di raccontare anche ai lettori. Vi leggo la dedica che appunto fa l'autore. È un ringraziamento sentito a tutta la famiglia Amort per le inedite testimonianze fornite, contribuendo di fatto a donare un carattere di unicità all'opera. E poi riporta anche una frase molto breve di Padre Amort. Tra i poveri c'è una consuetudine, quella di dividere quel poco che hanno tra loro. I ricchi invece più hanno e più ne vogliono, e chi cerca la propria ricchezza cerca la propria disperazione. Se ci considerassimo tutti i fratelli non ci sarebbero più contese. Il ricco aiuterebbe il povero, il sano soccorrerebbe il malato. E anche questo mondo diventerebbe un'anticamera del paradiso. Padre Amort, Padre Gabriele Amort, l'ultimo partigiano di Dio, firmato da Paolo Vizzacchero, il libro è edito da EDB Edizioni. Per la San Paolo, Natale, Brescianini e Alessandro Pannitti firmano un libro intitolato Coaching per la vita spirituale. Il coach chi è? Il coach è come se fosse un allenatore. Quindi è facile parlare di coaching magari per l'attività fisica o coaching per l'autodifesa personale e altro. Quindi colui il quale ti insegna a fare qualcosa. Qui parliamo di un coaching, quindi di qualcuno che ti guida per la vita spirituale. E come leggiamo nella presentazione, un libro scritto a quattro mani che si incrociano nel tentativo di rispondere a un'unica domanda. È possibile utilizzare il metodo del coaching come risorsa per accompagnare la vita spirituale delle persone in ricerca di senso e di prospettive di libertà e di valore per la propria esistenza? E naturalmente la risposta la troviamo in questo libro. Infatti nell'introduzione c'è una sorta di doppia intervista ai due autori. Il primo, Alessandro Pannitti, racconta di occuparsi di coaching da oltre dieci anni e dice di considerare un vero privilegio scrivere questo libro a quattro mani con l'altro autore, padre Natale Brescianini. Nel nostro primo lavoro, hanno già lavorato insieme, hanno dedicato un capitolo introduttivo alla storia del coaching, le cui origini possono scorgersi addirittura nella maieutica socratica. È un metodo che ha avuto una crescente applicazione e diffusione a partire dai primi anni 90 come strumento potenziante al supporto dei manager di grandi corporazioni, di grandi aziende nordamericane e nord-europee. E questo ha rappresentato anche il canale attraverso il quale il coaching all'inizio del terzo millennio è arrivato in Italia. Poi c'è una specie di storia tutto quello che è il coaching e poi in questa breve intervista racconta sempre Alessandro che nei monasteri, conventi e seminari c'è sempre stata la figura di una persona che fosse responsabile e garante del cammino spirituale del candidato alla vita religiosa e presbiterale. Se parliamo di padre come relazione che genera vita, ci muoviamo all'interno di un mondo particolare e utilizziamo direttore, maestro oppure guida, lo scenario cambia. Ci si sposta forse più sui contenuti. Pensiamo ad una guida alpina, tutti stanno dietro a lui e fanno ciò che egli dice. È un po' questo il coaching. È importante, scrive l'autore, chiarire i termini e dichiarare la prospettiva entro cui ci muoveremo. È un libro, sì, che è difficile da sintetizzare in pochissime parole, però davvero è un progetto interessante quello che pongono i due autori. Natale Brescianini, padre Natale Brescianini, Alessandro Pannetti. Coaching per la vita spirituale, edizioni San Paolo. Chiudiamo, come nostra tradizione, con un libro, diciamo così, simpatico, con un libro che ci lascia il sorriso. Lui è una vecchia, la nostra vecchia conoscenza, è un sacerdote giovane, Don Diego Goso, che per LDC firma il Galateo del giovane cristiano, come comportarsi in chiesa. Perché? Si pone queste domande, Don Diego. Devi ricevere la Santa Comunione? Senti parlare di Trinità solo quando qualcuno ricorda certi vecchi film con Terence Hill, il Don Matteo giovane? Devi partecipare a un battesimo, a un matrimonio, a un funerale? Purtroppo, ma hai le idee un po' confuse e non sai da che parte cominciare? Niente paura. Sfoglia queste pagine e troverai la risposta giusta. Ti aiuteranno anche a vivere bene nella chiesa, a non farti sembrare fuori posto, a darti tutte le informazioni per dimostrare che, nonostante i tuoi giovani anni e tutte le carte in regola, per fare una bella coppia con Gesù, l'amico number one. E allora, diamo qualche indicazione. Perché è un libro davvero molto simpatico, colorato. Ci sono, appunto, Piccolo Galateo per grandi cristiani, avvertenze per l'uso, la genuflessione, anche questo molto simpatico. Prendiamone una a caso. Facciamo così. Una veramente a caso scelta in questo istante. La genuflessione. Ecco, questo mi ha colpito. L'equilibrista che è in te. A proposito di ginnastica, se sei in forma dovresti riuscire a fare quest'altro esercizio senza problemi. Si chiama genuflessione, che vuole appunto dire saper piegare il ginocchio destro fino a terra inginocchiarsi. È un gesto, un segno molto umile e di rispetto. Una volta erano i rei a pretendere questo gesto per dimostrare che erano loro i più alti di tutti. Il cristiano si inginocchia davanti a Dio, mettendo il ginocchio destro a terra, mentre il sinistro rimane piegato a 90 gradi davanti a sé. E la schiena rimane bella dritta, con le mani ben distese lungo il corpo. Il cristiano non si ginocchia per paura davanti a Dio, lo fa perché si rende conto della sua grandezza. Un galateo per il giovane cristiano, che è tra parentesi quindi valido anche per i cristiani, quelli un po' più grandi di età. LDC, il galateo del giovane cristiano come comportassi in chiesa, firmato da Don Diego Goso. Con questa segnalazione vi ringraziamo per essere stati con noi, vi salutiamo. Se volete rivedere tra le righe, vi rimando al nostro canale YouTube Padre Pio TV. Grazie a tutti e buona settimana. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.